Ciao a tutti amici oggi vi faccio vedere questo giuchino che ho comprato su l'Apple Store e qua mi frega sempre uff c'è anche da mettere la pila se la pila scarica non va molto bello molto bello vediamo i punteggi si è già bloccato vabbè è molto bello compratelo tutti allora prima di tutto ciao a tutti